Un esempio da seguire per i più giovani e per l'intera comunità. La Sala delle Colonne di Palazzo Graziani a Perugia ha celebrato il 18enne bastiolo Francesco Felici, finalista agli US Open di New York per il tennis in carrozzina e onorato del titolo di atleta esemplare. Una bellissima storia di successo e passione sportiva in cui sono intervenuti tra gli altri Cristina Colaiacovo, presidente di Fondazione Perugia, ente che ha sostenuto la trasferta del tennista negli Stati Uniti, e Leonardo Varasano, assessore alla cultura del Comune di Perugia. La Fondazione ha accolto l'invito dell'Associazione di Francesco per poter sostenere le spese e per farlo partecipare agli US Open e devo dire per noi è stato, nonostante ci trovavamo a luglio in una situazione in cui la Fondazione era chiusa, è stato veramente un motivo di grande orgoglio poter sostenere questa sua impresa e poi soprattutto oggi portarlo ad esempio per tanti altri giovani per quello che lui è riuscito a fare nonostante le sue difficoltà e i risultati che ha riportato. E quindi ecco veramente l'esempio di questa persona la trasmettiamo a tanti altri giovani che magari possono trarne una buona ispirazione. Francesco è un esempio anche di come il merito possa meglio germogliare quando ci sono le condizioni ideali e quando lo si riconosce. Si è riconosciuto la tenacia e il merito di Francesco, lo si è sostenuto e oggi si vedono i frutti. Per l'occasione sono stati presentati anche tanti giovani atleti della società di nuoto Libertas Rarinantes del presidente Polo Riccini Ricci e del vicepresidente Massimo Pici. La mamma di Francesco, l'avvocato perugino Katia Mosconi, in questi mesi ottenuti il supporto di molti colleghi rappresentati da Carlo Orlando, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e membro del comitato Ricominciamo da Francesco, nato per sostenere le eccellenze sportive del tennis in carrozzina e per la stessa organizzazione sono intervenute anche le vicepresidenti Silvia Gidi e Francesca Forlucci. Tutto questo per dare sostegno a un giovanissimo campione che racconta l'emozione di vivere da protagonista il grande slam new yorkese. Sicuramente è stata un'esperienza indimenticabile perché stare lì a New York in uno slam, giocare uno slam in mezzo ai grandi è sicuramente un'emozione sentirti parte di loro, di questo gruppo di tennisti professionisti è sicuramente un'esperienza unica, entrare a flash in middles, giocare nei campi. Mi è stato dato il premio sportmanship come atleta esemplare per il mio comportamento dentro e fuori dal campo questo significa molto per me ma anche per tutto il mio team perché significa che all'infuori del crescere a livello tennistico, tecnico, tattico eccetera ma soprattutto crescere dal punto di vista umano. Un percorso pieno di sacrifici dove l'attività agonistica va di pari passo con l'impegno scolastico. Vado a scuola tutti i giorni, poi esco, vado al circolo, mi alleno due ore in campo con lavori, ovviamente decisioni ogni giorno in base alle esigenze su cui stiamo lavorando e poi vado in palestra per allenarmi, questo per tutti i giorni della settimana e a volte d'estate anche per più di una volta al giorno quindi sicuramente sono ritmi difficili però che questo dedizione, il lavoro giornaliero è l'unico modo per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Il sogno ovviamente è quello di rappresentare un giorno l'Umbria e l'Italia nella rassegna parolimpica. Partirò settimana prossima per partecipare da alcuni torna in Turchia per cercare di aumentare il mio ranking da adulto e gli obiettivi sicuramente sono di partecipare a una parolimpiade sicuramente c'è Parigi 2024 che è vicina, è più un sogno che qualcosa da realizzare però non perdiamo la speranza e però puntiamo a Los Angeles 2028 e al poter tornare a uno slam da adulto il prima possibile.